Nella quinta e serale di ieri, le antiche strade della parrocchia di Santa Maria della Tomba a Sulmona si sono illuminate di fede e spiritualità con la celebrazione della Via Crucis. Organizzata con fervore dai gruppi di pastorale parrocchiale, la processione ha visto una partecipazione numerosa e devota guidata dal parroco Don Ramon Peralta. La Via Crucis, un'espressione di pietà popolare radicata nella tradizione biblica, ha invitato i fedeli a meditare sul sacrificio del crocifisso risorto ed accogliere il suo amore misericordioso. Don Ramon Peralta, nel suo messaggio ai partecipanti, ha sottolineato come questo rito sia un momento di riflessione profonda e di orientamento spirituale verso l'amore e la misericordia divina. Il percorso della preghiera ha toccato non solo i luoghi fisici ma anche quelli spirituali, richiamando valori cristiani fondamentali come l'obbedienza, la solidarietà, il perdone e la speranza. La Via Crucis è diventato un viaggio condiviso che ha rafforzato la comunità nella fede e nell'impegno quotidiano di seguire le orme di Gesù. Il coraggio e la determinazione delle donne, figure centrali nella narrazione pasquale, sono stati particolarmente evidenziati. Come prime testimoni della risurrezione, hanno assunto il ruolo di messaggeri del Vangelo, simbolo di una fede che supera ogni ostacolo e che si rinnova nel messaggio di speranza e salvezza. Al termine della processione, si è avuto un momento di riflessione con la preghiera per la visita pastorale del vescovo Monsignor Fusco e Don Ramon Peralta ha espresso la sua gratitudine per la partecipazione. La Via Crucis si conferma così un appuntamento imprescindibile per la comunità, un momento di unione e di crescita spirituale che precede e prepara al culmine della settimana santa.